salve gente bentornati sul mio canale questa volta volevo parlarvi di delle due fragranze del mese di ottobre perché non lo sapesse ogni mese la yankee mette in sconto due fragranze del del catalogo continuativo e solita teoricamente sono tutti i formati in sconto poi però a discrezione del negoziante degli accordi con con la casa madre sceglie se mettere solo le giare se mettere solo le letti light se mettere le i sampler cioè votivi se mettere le tart mettere tutto non mettere niente e ogni mese sceglie due due fragranze e le mette in sconto per 30 giorni con 25 per cento di sconto a ottobre sono stati scelti honey glow e fireside treats si conoscono anche le altre fragranze da qui a fine anno quindi comunque a mensilmente ve ne parlerò allora partiamo con honey glow immagine evocativa di questo alberone in un tramonto e la descrizione ufficiale della yankee parla di un morbido accattivante splendore di questo morbido accattivante splendore di questo profumo dolce che crea un invitante stato unanimo caldo e sereno e io pensavo honey quindi miele pensavo si trattasse proprio di una cosa molto dolce io non sono amante del miele e però ho detto proviamola visto che comunque rientra tra le categorie della yankee nelle fresh farò un video magari dove vi spiegherò tutte le categorie della yankee e vi spiegherò le mie categorie personali infatti io l'ho inserita nelle coccoline e pensavo fosse più dolce più miele alimentare invece è un miele come fosse come potrebbe essere magari un miele di una di una lozione per corpo ed intensità molto cioè non intenso cioè si sente però non è invadente non sgomita nell'aria e io dico che probabilmente colora l'aria e cullando la stanza e questa fragranza mi ha sorpreso piacevolmente perché pensavo che non mi sarebbe mai piaciuta ed invece è stata buona e ha fatto la sua porca figura poi passiamo alla seconda in ordine di di foam ed è fireside trees che probabilmente in poche parole marshmallow e la yankee candle riguardo parla di gioia del campeggio fuochi ipnotizzanti canti e risate mentre si tostano in marshmallow che diventano appiccicosi ecco appunto marshmallow che diventano che si tostano spesso chi sente questa fragranza è tre volette deluso dalla nota finale di tostatura di di bruciatino che è una cosa normale perché se poi se scaldi un marshmallow sul fuoco se poi ti aspetti che rimanga anche solo solamente dolce non hai capito e secondo me è particolare questa nota perché smorza tutto un colpo questa dolcezza che magari poteva tendere allo stucchevole se fosse rimasta fino alla fine e è una goduria per i sensi dal mio punto di vista e perché appunto è dolce ma non fa ingrassare quindi massimo rispetto per questa fireside trees molto adatta secondo me per chi ama le le food and spice perché questa è la categoria di appartenenza io le chiamo diabetiche e nel food and spice ma è da provare perché non non è stucchevole se fosse rimasta del tutto solo marshmallow sarebbe secondo me andata a diventare stucchevole invece con questa nota brusolita si ferma e quindi si salva in corner e come ultima cosa vorrei aggiungere che io ho miscelato queste due fragranze insieme perché la yankee promuove anche questa questa pratica della chiamata mixology quindi del miscelare insieme diverse fragranze e ha un nome perché l'ho cercato su online e si parla di cioè questa nuova fragranza nata da altre due fragranze si chiama bonfire night ve lo scrivo perché magari la mia pronunciation non è proprio delle più corrette e ho messo un allora avevo di di fireside la tart e di oniglo il votivo quindi ho messo in parti uguali quindi un ottavo di oniglo e un un quarto di fireside e la cosa che mi ha sorpreso è che la visto la differenza comunque di intensità perché la fariside è molto potente la oniglo invece è più delicata invece no la fariside è andata in supporto al miele dell'oniglo e quindi l'ha risaltato ancora di più sempre senza andare a livello di stucchevolezza ma l'ha solo intensificata dal mio punto di vista ogni naso è a sé quindi io posso solo parlare per le mie esperienze personali e niente questa sono è la mia esperienza con le con le foam di ottobre e spero che vi sia piaciuto il video grazie alla prossima ciao ciao